Ricordi quella sera che ti dissi, ma Gabriele andiamo insieme a teatro? Ah sì, è solo che ero impegnato quella sera. Eri impegnato? Io però poi a teatro ci sono stata davvero. E beh, hai fatto bene. E guarda chi ho incontrato e cosa ti sei perso. Eccomi qua, questa volta in veste di inviata speciale. Ho una grande sorpresa per tutto il pubblico di Mille Voci e per tutti gli amici che ci seguono. Sono venuta a trovare un grande artista, un amico di Mille Voci. Venite con me e scopriamo un po' chi è. Avanti! È permesso! Eccolo! Ci intrufoliamo nei camerini mentre il nostro martufello si prepara per la prima di uno spettacolo teatrale perché voi dovete sapere che lui è un artista poliedrico ed è stato così gentile da voler salutare tutto il pubblico di Mille Voci proprio in un'occasione così importante. Come stai Maurizio? Bene, bene, molto bene. Se deve andare peggio è meglio che rimane così. Ecco, appunto, ricordatelo. Mille Voci, Mille Voci. Voci? Le voci, no. Le voci, Mille Voci. E qui siamo al Teatro Roma dove siamo per fare l'imbianchino che è una commedia che poi riporteremo in giro il prossimo anno da partire dalla prima settimana di febbraio fino a maggio in tutta l'Italia. Quindi seguitelo, seguitelo, cercate Martufello che in giro per l'Italia vi divertirà con questo spettacolo. Bene, bene, sono contento. Sono contento che siete venuti qua perché con Matteo e Gianni e Turco, io, capito, nel senso che vuole che presento io questa remissione, ma lui non capisce che non sono capace di presentarla. Non la capisce. E allora è capitato che a Gabriele Marconi, peggio di così, non si poteva andare, insomma. No, scherzo. Secondo me però deve insistere perché un Mille Voci presentati da Martufello sarebbe... Ma Gabriele è il personaggio adatto, veramente. Non lo dico perché siamo molto amici con Gabriele, quindi va bene così. Allora, salutiamo Gabriele che ci sta guardando in studio perché questa sera gli ho fatto questo scherzetto di venire da sola a intervistarti. Però una piccola chicchetta per il pubblico di Mille Voci, una delle tue, no? Che vi posso dire? Quello che rientra a casa di corsa e chiama la moglie, cara esci fuori che se sta bruciando la casa, e una voce dall'armadio, salvati i mobili! Beh, con Martufello è sempre una garanzia perché c'è sempre da divertirsi, quindi... Speriamo almeno, beh, il divertimento, Martufello, ridere è bello, ecco. La tua carriera lo dimostra perché voglio dire, io adesso non voglio sparare le cifre, però insomma... Quest'anno a luglio sono 46 anni, quindi... Oh, quindi facciamo tantissimi auguri a Martufello per la sua lunga carriera, è splendida carriera, quindi... Non avete bisogno che io vi dica che sono vicino a una persona che ha fatto la storia dello spettacolo in Italia? In questo spettacolo sto in buona compagnia, c'è in buona villa, in aria rinaldi, quindi... Quindi ti circondi sempre di belle donne? Belle e brave donne, poi c'è anche il discorso dei sanni, la produzione nuova, perché esco dal bagaglino e appunto un altro discorso, nel senso, prima il bagaglino si fa a novembre, poi da febbraio rifacciamo questa produzione. Quindi Martufello è sempre pieno di sorprese, di impegni, quindi 46 anni di carriera e non sentirli, perché continua ad ammirare e ammaliare il suo pubblico. Noi lo ringraziamo tantissimo, grazie soprattutto per averci dedicato a questo spazio. Ciao mille voci, buona fortuna a tutti voi, di più Ninzò.